Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo il sondaggio Pagnoncelli-Ipsos sul Corriere della Sera di oggi, sabato 1 luglio 2023. Vediamo le intenzioni di voto politiche nazionali. Fratelli d'Italia perde lo 0,2 e scende al 29,4%. La Lega guadagna uno 0,9% e sale al 9,1. Mentre l'effetto Berlusconi non esiste per Pagnoncelli, vediamo addirittura che il partito perde lo 0,4 e scende al 7,3%. Noi moderati perdono lo 0,1 e siamo allo 0,9. Mentre il PD perde l'1%, quindi l'effetto Schlein sta sparendo ed è al 19,4%. Mentre poi vediamo l'alleanza Verdi-Sinistra-Reticivi che perde lo 0,3 ed è al 3,2%. Più Europa con Emma Bonino perde lo 0,3 ed è all'1,5%. Poi andiamo a vedere il Movimento 5 Stelle, cresce dell'1,2% e si porta al 16,2%. Mentre Azione perde lo 0,4 ed è al 3,1%. Italia Viva guadagna l'1,1% ed è al 4,1%. Mentre vediamo che Italexit perde lo 0,4 ed è al 2%. Unione Popolare guadagna lo 0,3% ed è all'1,5%. Democrazia sovrana e popolare perde lo 0,2% ed è al 0,7%. Altre liste 1,6% in discesa dello 0,2%. Vediamo che gli indecisi l'astenzione scendono al 39%, meno 0,5%. Il centro-destra cresce dello 0,2% ed è al 46,7% e c'è un tonfo del centro-sinistra che scende al 24,1%, perde l'1,6%. Adesso andiamo a vedere i gradimenti per i leader di partito. Vediamo che Antonio Tajani di Forza Italia sarebbe il primo leader di partito con il 34%. Pertanto è un nuovo ingresso, non ha dei precedenti da vedere perché prima era Silvio Berlusconi, quindi Antonio Tajani 34%. Matteo Salvini sale dal 29 al 31%, quindi del 2%, Giuseppe Conte scende di un punto al 30%, Elish Line tracollo nel gradimento dei leader perde 5 punti percentuali dal 31% al 26%, mentre Maurizio Lupi dal 21% sale al 23%, Nicola Fratoianni dal 20% al 23%, Nicola Fratoianni dal 20% scende al 19%, mentre Angelo Bonelli dal 19% scende al 18%, mentre Carlo Calenda dal 17% sale al 18%, Matteo Renzi dal 14% sale al 16%. Adesso andiamo a vedere il gradimento per il governo e il presidente del Consiglio. Vediamo che l'indice di gradimento dal 51% sale al 52%, voti positivi sono 46%, voti negativi 43%, non sanno, non indicano 11%. Mentre se vediamo qual è il livello di gradimento nei confronti del presidente del Consiglio, vediamo che l'indice di gradimento rimane al 53%, i voti positivi dal 6% al 10% sono il 47%, i voti negativi sono il 42%, non sanno, non indicano 11% e quindi il 53% è favorevole. Quindi vediamo che il gradimento nei confronti di Giorgio Meloni è sopra la metà, quindi è la maggioranza, il gradimento per il governo è la maggioranza. Se guardiamo il gradimento sui leader politici troviamo in salita sia Tajani sia Salvini e troviamo in discesa quelle di sinistra, Conte, Schlein, troviamo in salita Maurizio Lupi del centrodestra, troviamo in discesa Fratoianni, Bonelli, gli unici che crescono sono Carlo Calende e Matteo Renzi che fanno parte del centro. Per quanto riguarda le coalizioni vediamo anche qua la crescita della destra, del centrodestra che è al 46,7%, il centrosinistra un tonfo dell'1,6% e nelle intenzioni di voto vediamo la crescita della Lega 0,9% e vediamo il PD che finisce l'effetto Schlein meno 1% e la crescita anche di Italia Viva che arriva al 4,1% con un incremento di al più 1,1% e sorpassa azione di addirittura un punto percentuale. Quindi ci sono delle novità abbastanza forti in questo sondaggio che poi è quello più amato dai politici, quello a cui fanno più riferimento in Italia non solo i politici ma un po' tutti, è proprio il sondaggio di Pagnoncelli fatto per il Corriere della Sera. Probabilmente in questo caso quello che esce sul Corriere della Sera è tra i sondaggi più imparziali che ci sono perché insomma anche i sondaggi sono diciamo un po' di parte, dipende chi li pubblica, chi li commissiona e chi li fa. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci e grazie.